Signori, durante i miei viaggi in lungo e in largo per le vastissime lande del crogiolo, ho visitato destinazioni alla ricerca di articoli che a volte mi hanno rubato il cuore e altre mi hanno lasciato profondamente perplesso. Per ogni città, villaggio o roccaforte dove mi sono recato, una tappa è sempre stata fissa, l'emporio, ed è lì che grandi tesori si celano in attesa di essere scoperti e mostrati, portando a conoscenza di quante più persone possibili la loro esistenza. In questo viaggio, visitando la città Barbara di Burgang, mi sono recato personalmente nel mercato locale, dove mi è stato suggerito un prodotto che porterà nel meta del GCC a tema piratesco un nuovo leader tutto da scoprire. Bentornati quindi in un nuovo appuntamento dell'emporio del crogiolo. In questo episodio il mercante consiglia l'undicesimo starter deck del TCG di One Piece, capitanato da Uta. La scatola presenterà l'immagine della carta principale del mazzo con protagonista la figlia di Shanks, su sfondo vario pinto, con il nome dell'articolo, le varie indicazioni sul numero di produzione, il logo del gioco ed alcune info generali e della casa madre sulla parte frontale, la tipica figura della cantante visibile attraverso una finestrella posta in basso, il simbolo iconico del teschio dei pirati in alto, con, anche qui, il numero dello starter ed il logo del gioco su trama azzurra sul lato sinistro e rosa su quello destro, unicamente questi ultimi due sulla parte superiore, ed il contenuto generico presente nella confezione assieme a tutte le informazioni legali del caso descritte sulla parte dorsale. Una volta aperto l'articolo troverete il mazzo che verrà incluso questa volta, a differenza delle edizioni scorse che presentavano cartone e plastica pura, in una custodia interamente costruita in materiale riciclato, il deck stesso, 10 don classici ed un vademecum che fungerà sia come guida rapida alle regole di gioco che come campo dove potrete schierare la vostra ciurma. Il deck in questione vedrà, a parte la mancanza di Nami a costo 3, la presenza in quattro copie ciascuna del reparto firm pubblicato per la prima volta in OP02, ovvero il secondo set di questo TCG al completo, assieme all'event Treesword Style Onigiri, che accompagnerà a chiusura fornendo una base di partenza molto significativa. Soprattutto se si parla del colore verde che in Paramount War, con Kinemon come leader di rappresentanza, ha dettato legge nel meta di allora. In più saranno presenti anche le due copie di Uta Blocker Costo 3 e gli event New Genesis, che per la cronaca è il primo della sua categoria a presentare la rarità SR nel gioco, e Blacklight, che assieme alla Character appena menzionata, risulteranno le uniche tre carte ad essere presenti in duo all'interno dell'intero mazzo. Quindi dopo aver visto il contenuto dello starter e le carte che saranno presenti nel deck, prendiamo in considerazione due punti che riguarderanno l'acquisto in più copie di quest'ultimo. Ebbene, essendo solamente tre le carte che non saranno presenti in playset, ovvero come già accennato Uta Blocker, New Genesis e Blacklight, i consigli che mi sento di darvi saranno i seguenti. Il primo, acquistate due mazzi e pace fatta. Avrete tutto a 30 euro circa, dato che il prezzo indicativo dell'undicesimo sarà di 15 euro, così da avere ogni carta in quattro per disponibili per essere giocate nell'immediato. Mentre il secondo, aspettare che i prezzi delle singole siano disponibili e poi agire di conseguenza. Anche se, ve lo devo dire, questo punto potrebbe rappresentare un rischio proprio per l'aumento dei prezzi delle diverse carte che, raggiungendo costi discretamente elevati, finirebbero per superare il valore dello starter stesso. C'è da aggiungere comunque che, all'aumento delle singole, anche l'intero prodotto vedrebbe una salita di quotazioni. Quindi restate sul semplice. Prendetene due per stare tranquilli. È Arconte, ma con tutto il reparto film in avanzo, poi, che ci faccio? Avete un amico che vuole iniziare a giocare? O una fumetteria di fiducia, dove donare letteralmente un deck pronto all'uso da far provare ai curiosi in loco, così da allargare ancora di più la community della vostra zona? La decisione spetta a voi. Potrete anche tenerle da conto, creando diversi deck senza spostare carte da un mazzo all'altro, ad esempio avere una base forte sia per Doffi, Verde e Viola, che per Uta stessa o Kid. Di certo, questo articolo rappresenta un forte segnale, soprattutto in fatto di ristampa, perché per tutti coloro che non hanno avuto modo di mettere le mani sulle carte di OP02, con questo avranno l'opportunità di avere un deck non performante ad alti livelli, ma di sicuro il più performante tra i suoi predecessori, perché segue un archetipo già testato in precedenza nei meta di OP02, 03 e 04. Quindi conviene acquistarlo? La risposta è sicuramente sì, sia se si parla di pirati veterani, che con il contenuto di questa scatola potranno sperimentare nuove tipologie di deck, che per chi è ancora ancorato in porto, in attesa di avere tra le mani un insieme di carte che segue una strategia semplice e ben precisa, pronta a dar battaglia agli altri corsari che navigano per i Sette Mari. In più, per chiunque effettuerà un acquisto doppio per muovere i primi passi navali nel mondo del TCG di One Piece, lascerà una lista che vedrà l'utilizzo delle sole carte presenti nello starter, così da avere un punto di partenza pronto per prendere il largo vento in poppa. Prima di concludere, volevo ringraziare i signori di Loop Games per aver messo a disposizione il prodotto trattato in questo contenuto. Come sempre, vi lascerò i loro contatti in descrizione. Bene, è arrivato il momento di iniziare un nuovo viaggio verso mete più o meno distanti dove gli empori del luogo riserveranno per me e per voi i loro tesori nascosti. Ci vedremo in un prossimo appuntamento di questa rubrica non appena sarò tornato dal mio girovagare. A presto!